Cari amiche e cari amici, desidero condividere con voi alcune riflessioni dalla lettura del Vangelo di Luca. Si tratta della prima parola pubblica in questo Vangelo pronunciata da Gesù e ascoltata durante un culto in sinagoga. Per chi segue Cristo la fede nasce e si coltiva con l'ascolto della sua parola e questa parola è rivolta ancora oggi a noi. In questo brano Gesù commenta alcuni versetti del profeta Isaia e getta una luce sul futuro del suo ministero pubblico, di quello che accadrà. Ma noi sappiamo illuminare il domani con la vita che conduciamo oggi? Gesù ritornò nella Galilea con la potenza dello Spirito. La sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoge e tutti lo lodavano. Si recò a Nazareth dove era stato allevato. Era sabato e come al solito entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu presentato il libro del profeta Isaia ed egli, apertolo, si imbatté nel passo in cui c'era scritto. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha consacrato e mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri, ad annunziare ai prigionieri la liberazione, a dare la vista ai ciechi, a restituire la libertà agli oppressi, a affasciare le ferite del cuore e a proclamare l'anno di misericordia del Signore. Amo. Oggi, nelle vostre orecchie, le scritture si sono compiute. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano stupiti per le parole piene di grazia che pronunciava. E si chiedevano, ma costui non è il figlio di Giuseppe? Il sapere che non cresce decresce, lo sappiamo tutti, come il cibo che non si ingerisce non nutre e noi deperiamo. Allo stesso modo deperisce la fede quando non è nutrita dall'ascolto della parola di Cristo. Attenzione però, ascoltare non significa sentire. La sua parola dalle orecchie deve passare alla vita, cioè deve essere praticata questa fede. Questa parola deve nutrire le nostre scelte di vita, Alla fine della lettura Gesù chiude il rotolo e proclama che quanto è annunciato dal profeta Isaia si stava realizzando in quel momento. Oggi, oggi, nelle vostre orecchie le scritture si sono adempiute. Ma in quel momento, quel sabato, stava evangelizzando i poveri? Quel giorno annunciava la liberazione ai prigionieri, apriva gli occhi ai ciechi e rimetteva in quel giorno in libertà gli oppressi? In realtà sì, anche se non sembra che sia accaduto nulla in quel giorno, ma quel giorno era l'inizio di ciò che stava già accadendo, era l'inizio di un futuro. L'Evangelista Luca sottolinea che questa breve frase di Gesù pronunziata appunto nella sinagoga deve avere prodotto un certo effetto tra i suoi uditori, perché il brano di Isaia riguardava la venuta del Messia che Gesù stava proclamando. Iniziava il tempo messianico, quindi, il tempo della gioia, della salvezza, della liberazione e di ogni oppressione. Ma dove erano i segni? Dobbiamo ricordare quanto era diventato importante aspettare il Messia. Inizialmente, nelle pagine dell'Antico Testamento, il Messia era l'unto del Signore, l'unto col Crisma, il consacrato, cioè un re. Ed è per questo che nei Vangeli Gesù è spesso appellato figlio di Davide o figlio di Dio, titoli riservati al re e quindi al Messia. E nella cerimonia d'incoronazione del re, in Israele si leggeva il Salmo 2, dove al versetto 7 si legge «Il Signore mi ha detto tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato». Per questo al battesimo del Giordano dal cielo scende su Gesù la frase «Tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto». Col passare del tempo la nozione di Messia si applicava poi a tutti coloro che erano ripieni di spirito per seguire il popolo. Alla fine si arrivò a designare un personaggio molto atteso come Messia e che sarebbe stato riconosciuto dall'adempimento della profezia di Isaia, letta da Gesù in questi versetti in sinagoga. Ora l'unica cosa che la gente non poteva capire e non riusciva a capire però era il vero significato delle parole. Cosa significasse effettivamente evangelizzare i poveri anche quel giorno, annunziare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l'anno di misericordia del Signore, non capivano che loro non erano solo poveri e oppressi a causa dell'occupazione romana, ma erano anche prigionieri del loro passato e ciechi del loro futuro come tanti altri e come possiamo benissimo ancora essere noi oggi. Gesù darà i segni di cui si parla nei versetti di Isaia durante tutto il suo ministero pubblico, ma non era affatto quello che la gente si aspettava, perché volevano un liberatore politico e qualcuno che assicurasse il pane quotidiano e il lavoro, volevano che si portasse in auge Israele, non il mondo, non la gente, tutta la gente. Per questo nell'episodio della moltiplicazione dei pani lo vorranno proclamare re, per questo Gesù fu tentato da Satana nel deserto che voleva dargli tutti i regni della terra se lo avesse adorato. La grande tentazione di Gesù. La gente non si aspettava e non voleva che un Messia avesse potuto invitare il disonesto Zaccheo piuttosto che i fedeli devoti. Un Messia che avrebbe difeso la prostituta Maria Maddalena, che avrebbe guarito in giorno di sabato, infrangendo la legge, che chiamasse i farisei ipocriti, e frequentato strozzini e malfattori, e guarito il servo di un nemico, di un ufficiale romano. Ma per Gesù invece erano proprio questi i poveri, i prigionieri, gli oppressi, i ciechi, per i quali il Messia era venuto ad annunziare l'anno di misericordia del Signore. Anche se schierarsi dalla parte dei poveri, dei prigionieri, dei diversi, degli oppressi, ha conseguenze spaventose a volte sull'ordine sociale, sulla vita personale, riguardo a come allora era definito il comportamento rispettoso della legge religiosa e sociale. Perché? È diverso oggi da noi? Oggi nelle vostre orecchie la scrittura si è adempiuta. Quando ascoltiamo questa frase dovremmo forse, credo, renderci conto di quale potrebbe essere il suo significato per noi oggi. Oggi. Senza dubbio abbiamo la stessa difficoltà ad ascoglierlo come accadde ai contemporanei di Gesù. Innanzitutto, perché quando guardiamo il mondo in cui noi viviamo oggi, abbiamo l'impressione che per i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi, non sia cambiato granché da quando Gesù ha proclamato quella frase. E quindi questa frase sarebbe ancora una speranza, per non dire una favola. Dobbiamo però anche renderci conto che se oggi si dovesse compiere una tale salvezza, dopo duemila anni di predicazione cristiana, la si dovrebbe attribuire alle scelte e alle azioni di coloro che ci riteniamo al seguito di Cristo, del Messia. Ciò significherebbe credere fortemente che lo Spirito di Dio, che lo Spirito di Cristo opera già nel nostro mondo dall'interno come lievito e opera ancora. Ma per vedere che oggi la buona novella sia annunziata ai poveri, dobbiamo prima di tutto annunciarla e ascoltarla. Perché i prigionieri vengano liberati, dobbiamo impegnarci a liberarli dalle tante catene che opprimono, che li tengono prigionieri, catene della depressione, della solitudine, della malattia, del dolore, e certo non sono catene di ferro, ma di ben altra natura. Ognuno nel suo piccolo incontra questi poveri, questi prigionieri, questi oppressi. Nel suo piccolo mondo trova tutto questo. E in effetti la parola di Gesù oggi nelle vostre orecchie, le scritture si sono adempiute, ci coinvolge e ci conduce su un percorso impegnativo. Troppo impegnativo? Gesù vola troppo in alto per noi? La fede ci chiede troppo? Ma Gesù comunque non ha mai promesso che sarebbe stato facile seguirlo. Quelle di Isaia sono parole intrise di speranza, rivolte allora ad un popolo scoraggiato, quando lui le ha scritte, un popolo in esilio, sconfitto, sconfitto nell'anima anzitutto. Il profeta Isaia aiuta a leggere gli eventi con lo sguardo di Dio, volantissimo, sì. Ci sfida ad un programma troppo ardito di un Dio, di un Cristo, di un Messia, che ci invia ad incoraggiare, a proclamare buone notizie, a proclamare cose positive che ancora possono e devono accadere, a liberare, ad aprire gli occhi, a dare gioia. Viviamo in un mondo in cui tanti sono scoraggiati e rabbiosi, in cui si parla soprattutto di brutte notizie, in cui ci si contrappone, si vive schiavi delle proprie paure, delle proprie ossessioni, accecati dalla rabbia, dall'invidia, dalla frenesia. In questo mondo Dio libera. Gesù, anche nel piccolo mondo della nostra quotidianità, da dove inizia la liberazione, nella nostra quotidianità sociale, nei nostri effetti, è lì che ci chiede di operare. Gesù ha iniziato il suo ministerio pubblico a Nazareth, nella sinagoga che frequentava da bambino. lì ha cominciato a portare gioia. E un anno di misericordia, anche quello è appena iniziato, come ogni anno. Ricominciamo, ricominciamo. Oggi è il primo giorno del nostro futuro. Corriamola questa parola. Ecco l'opportunità nella fede di spalancare gli occhi dell'anima e di diventare noi liberi e di impegnarci affinché altri lo siano. Ma non si tratta delle parole di un libro o di un passato antico che dobbiamo rivivere. Sono le parole che il Cristo, che Dio, ci sta sussurrando oggi. Oggi. Oggi si può compiere la salvezza. È l'inizio. L'inizio della liberazione, della consolazione. Oggi è il tempo di Dio. Il Signore è qui. Oggi noi rimandiamo tutto a domani o rimpiangiamo il passato. Oggi. Non quando le nostre chiese erano piene e la chiesa era autorevole e influente forse. Non quando frequentavamo la chiesa con un pastore strabiliante. Non quando avevamo una comunità vivace che ci incoraggiava, che ci seguiva. Ma oggi con il pastore e la comunità che abbiamo, con la nostra famiglia, con i vicini che ci ritroviamo, sul lavoro che abbiamo. Questo è il nostro piccolo mondo. Con la pandemia, la crisi economica, le guerre all'orizzonte, le guerre dimenticate, le frontiere blindate, le chiese svuotate, la violenza crescente, lo scoraggiamento dilagante, le contrapposizioni politiche. Sì. Sì. Questo è il nostro piccolo mondo. Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. ieri e l'altro giorno e domani. Ne ieri né domani puoi fare qualcosa. Perciò solo oggi è il giorno giusto per amare, per credere, per agire e principalmente vivere e infondere vita e gioia attorno a te. A risentirci. a te. A risentirci. A risentirci. A risentirci. A risentirci.